Il mondo si evolve. Costantemente. Rapidamente. Di questo cambiamento, protagoniste sono le imprese, con la loro visione, tenacia e coraggio. Quando questi elementi convergono, nascono nuove opportunità di business, in cui l'IT si rivela un partner prezioso. Mentre le imprese affrontano le sfide del nostro tempo, l'IT ha il compito di semplificare, ottimizzare e migliorare questo percorso. Partner è sinonimo di fiducia. Quella fiducia che da oltre dieci anni anche grandi clienti hanno riposto su di noi per progettare, realizzare e gestire soluzioni enterprise. Per noi, enterprise significa dialogo, comprensione delle necessità e certezza di una soluzione per complessi progetti IT. Enterprise significa impresa e per affrontare un'impresa non si può essere da soli. o meno di più o meno di più o meno di più Grazie a tutti